A lungo ho cercato una scuola che tiene all'educazione in un clima di rispetto per tutti, che ritiene lo studio fondamentale per la crescita e la libertà di ogni ragazzo. Dove i docenti non sono mai lasciati soli e costruiscono insieme la scuola. Dove imparare facendo è possibile, per la passione di maestri professionisti. Dove anche lo stagio in azienda è parte integrante del percorso formativo, in cui il coinvolgimento delle imprese avviene già a scuola. Dove si realizzano progetti di formazione in lingua all'estero. Dove i percorsi sono personalizzati in base a caratteristiche del singolo. E dopo la qualifica possono durare anche quattro anni in collaborazione con l'università. Ho trovato tutto questo nella nostra scuola Galbus. E per tutti questi motivi, insegniamo qui. Dove i percorsi sono personalizzati in base a caratteristiche del singolo.